Sembrava un lunedì come tanti già dalla tarda mattinata in via Pisanelli a Casette d'Ete. Invece proprio in quella strada secondaria della frazione di Sant'Elpidio a Mare, stamattina poco dopo le 8, si è consumata una terribile tragedia. Un bimbo di un anno e mezzo è morto, investito da uno scuolabus e sull'asfalto restano i segni dei rilievi di quel corpicino, sull'uscio della casa in cui abitava, il suo passeggino. Una tragedia in mano, non trovo le parole per descrivere quanto è accaduto, sono stato subito sul posto e me la scena è stata subito di una tristezza in mano, un lutto che naturalmente colpisce tutta la comunità, colpisce in primis una famiglia straziata da quanto è accaduto, colpisce naturalmente chi si è trovato lì in quel momento, ma ripeto colpisce un po' tutti perché stamattina iniziare la settimana in questo modo sinceramente non ce l'aspettavamo come comunità. La mamma del bimbo di origini pakistane che vive a Sant'Elpidio da tempo ha attraversato la strada davanti casa con la figlia di 4 anni per mano per accompagnarla a salire sul mezzo che doveva portarla alla scuola dell'infanzia, mentre il bimbo più piccolo sarebbe rimasto dietro il cancello dell'abitazione, che però era aperto. Probabilmente per seguire la mamma e la sorellina il piccolo è uscito ed è andato verso lo scuolabus, che ripartendo dalla fermata lo ha travolto, uccidendolo sul colpo. L'autista non è riuscito a vedere quella piccola sagoma che gli si è apparata davanti e per il bimbo non c'è stato scampo. Io ho parlato fin da stamattina di una fatalità, di una fatalità perché comunque è una via secondaria e quindi poi sarà chi dovrà fare gli accertamenti del caso, però ecco ripeto, resta una fatalità e resta una piccola vita che non c'è più.